Concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. È dal 2007 che si parla della grande crisi. Da allora, Stati Uniti, Francia e Germania sono bastati quattro anni per recuperare. Da noi solo il mercato immobiliare comincia a rivedere la luce, ma occupazione e borsa sono ancora in affanno. Secondo il Financial Times, alla fine del 2017 il PIL italiano sarà 6,2 punti percentuali sotto il dato di dieci anni fa. Tra i paesi europei, peggio di noi, fa solo Portogallo e Grecia. Per tre italiani su dieci, la crisi economica pesa più di un anno fa e la Valtellina non fa eccezione. Secondo un'analisi effettuata da Fondazione di Vittorio della Cisle e Tecne, ben il 32% dei nostri connazionali giudica peggiorata la propria situazione. I sondresi intervistati per strada non hanno dubbi. Io la crisi la sento anche parecchio. Mi piace quando vedo le vetrine, mi piace comprare, vedere, però devo rinunciare. Anche le attese per i prossimi mesi non registrano una crescita della fiducia. Il 20% teme un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni, il 70% pensa che non cambierà nulla e solo il 10% attende un miglioramento. I nostri politici dicono che c'è la ripresa, che ci sono assunzioni, ma almeno per quanto riguarda qui da noi non si vede questa ripresa della situazione. La crisi colpisce ogni settore della vita produttiva, in particolare quella commerciale, con sempre più negozi costretti ad abbassare per sempre le saracinesche e ambulanti che cercano di sopravvivere come meglio possono. Noi stiamo soffrendo come tutti gli altri sicuramente. E poi il mercato comunque è cambiato molto, perché tanti appunto vivendo la crisi hanno ceduto posteggi di mercato a gente nuova, e soprattutto extracomunitari, perché purtroppo i nostri figli o gli italiani questo lavoro non vogliono farlo più. Sono soprattutto i giovani a risentire della crisi. C'è chi ha rinunciato a studiare perché non aveva i soldi per mantenersi all'università e chi invece, pur avendo speso gli anni migliori della propria vita dietro i libri, non ha ancora trovato un'occupazione. Dieci anni fa era diverso e pensavo che nel settore in cui ho studiato c'è quello dell'edilizia, ci fosse molto più spazio. Attualmente invece in Valtellina non c'è crescita in questo settore, anzi è zero. E non sono pochi quelli che, anche dalla nostra provincia, decidono di fuggire all'estero perché in Italia non vedono prospettive di lavoro.